ciao 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 a tutti e allora oggi faremo qualcosa di diverso qualcosa che già abbiamo fatto come l'uomo calamita o l'uomo magneto che su youtube lo trovate e mi raccomando iscrivetevi al mio canale se volete se potete non so se si può allora amici volevo dirvi oggi facciamo qualcosa che nessuno non ha mai fatto in tutto il mondo facciamo la ballata dei piatti con una bella musica siciliana d'accordo ok allora i piatti eccoli qua coputo e schiavo però mi raccomando di non farlo a casa perché cascono i piatti si rompono facciamo qualche cosa che nessuno non ha mai fatto amici eh in tutto il mondo non ho mai visto una cosa del genere la ballata dei piatti eccoli qua iniziamo uno qua sono fritti e un altro qua non lo fate a casa mi raccomando eh non c'è colla perché non è possibile siamo pronti vai con la ballata la ballata dei piatti eccoli qua non lo fate a casa mi 1, 2, 3, 2, 1 Ciao, ciao, mi raccomando, vi condividerlo Ciao, mi raccomando, vi condividerlo